Qualcuno ha scritto, non mi ricordo esattamente la frase, ma che il compito di un padre non è quello di dire a un figlio qual è il senso della vita, ma fargli capire che la vita ha un senso. Una cosa di questo tipo. Sembra una roba di Marzullo. Ok, Marzullo una volta ha detto, ma io voglio chiederti questa cosa. Se mai tuo figlio un giorno te lo dovesse chiedere, qual è il senso della vita? Oh madonna mia, ma oggi sei terribile, non lo so. Non ti vedo mai. Penso che il senso della vita sia essere realizzato. Vedi che poi stai rispondere sui video. E sereno, cioè nel senso non riesco a trovare un senso più profondo, poi magari il senso della vita è capire chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo. E il senso della vita è il senso, ognuno ha il suo senso nella vita. Secondo me il senso della vita è riuscire a fare una vita, arrivare a fare un bilancio della propria vita e dire, oh io questa vita qua me la sono goduta, ho fatto il massimo che potevo fare. Ho fatto tutto quello che mi piaceva fare, sono in pochi che possono farlo purtroppo. Io mi sono andato a fare e fino adesso sono contento, sento che ho avuto un gran culo e ce la sto facendo. Poi facendo le corna. Pippa, questa domanda rispose che è accumulare più ricordi belli possibili. Eh sì, ma più o meno è l'instance, è essere felice, è avere vissuto bene, giusto? Un ricordo felice? Quando sono stato promosso, sì. Perché è successo poche volte. Sì, poche volte fa, anche a me. Tu sei diplomata. Ma va. Sì, quello è un momento felice. Cioè, è tornare a casa. Perché magari i giorni di prima c'è tipo se con l'ansia dire, speriamo, speriamo, altrimenti a casa c'è un casino. Però sì, quello è un momento felice.